Musica Poi possa costruire intorno a questo tutta una interpretazione, sempre magari scritta, del fumetto che è un esercizio estremamente complesso o addirittura tramite i software di storytelling e via dicendo, vi aiutino invece a sviluppare, non dico dei fumetti, ma a delle storyboard, cioè degli schemi di sviluppo di giornalini. Perché? Perché il cinema come il fumetto sono non altro che linguaggi attraverso cui noi ci esprimiamo. Quindi non esiste soltanto il libro di testo, per fortuna esistono anche i romanzi, esistono le poesie, le novelle, ma esistono quelle bellissime recensioni di libri, le bellissime recensioni di film, esistono anche i fumetti, o le cronache sportive, come dice il nostro Virgilio. Passo la parola al professor Mario Caligiuri. Allora, buona giornata. Allora, vi ho detto un saluto affettuoso al nostro preside, dico nostro perché come sapete ho studiato in questo liceo. Allora, vi parlo, come vi diceva prima il preside Caligiuri, come presidente del Lions Club di Soveria Mannelli. Il Lions è il più grande club service del mondo, che ha come motto We Serve, noi serviamo. E ha a che fare con la solidarietà, col volontariato, quindi con la creazione di capitale sociale. Il capitale sociale è quell'elemento presente all'interno della comunità, che consente che poi all'interno della comunità, quindi nelle scuole, con le istituzioni, con il comune, le cose possano funzionare in maniera da tenere conto dell'interesse generale. Allora, il capitale sociale è anche capitale relazionale, che vuol dire seguite quello che vi dico. Le relazioni, i contatti, le persone che uno conosce sono un valore, sono importanti per crescere, per le nostre vite, per raggiungere risultati, sono importanti le amicizie che noi abbiamo e dobbiamo coltivarle in maniera sana per crescere noi e fare crescere la comunità. Allora, viviamo in una società dove c'è la crisi dell'esempio. Cosa vuol dire? Ascoltiamo belle parole, soprattutto in televisione, ma i fatti non sono conseguenti. Si dice una cosa e si fa l'esatto opposto. Ora, la crisi dell'esempio vuol dire anche una crisi del sistema democratico. Eravamo rimasti alla crisi dell'esempio. Allora, è importante nella vita seguite avere dei punti di riferimento. Ciascuno di noi li ha, soprattutto quando cresciamo. Noi prendiamo a modello alcune persone. Possono essere i genitori, possono essere dei parenti, degli amici, dei compagni di classe, cioè a modelli. Allora, è importante scegliersi dei modelli positivi, quelli che ci fanno crescere, quelli che ci ispirano valori. Tenete conto che fino a qualche anno fa la cultura era considerata un elemento positivo che contribuiva a migliorare la propria vita. Oggi non è più così. Non si considera la cultura come un valore, mentre è questa che serve sempre di più. Voi state crescendo. Quando finirete il corso di studi, quando vi iscriverete all'università, finirete. Vedrete com'è importante conoscere le cose. È l'unico elemento che vi consentirà di riuscire nella vita. Poi lo sperimenterete. Allora, da dove ripartire di fronte a questa crisi profonda che stiamo vivendo? Allora, una delle possibili parole, possibilità, è quella di ripartire dalle parole. Perché questo è importante? È importante questo aspetto. Perché le parole, diceva prima il preside, chi scrive, razionalizza i pensieri e li vede in profondità. Fateci caso, quando voi scrivete un tema vi appropriate di cose che magari neanche conoscete bene, però li capite scrivendo. Perché è una tecnica che aiuta a razionalizzare quando uno scrive. E allora quest'anno i Lions hanno come tema generale la cittadinanza attiva, che vuol dire prendere parte in maniera consapevole alla propria comunità. E quest'anno, come diceva il preside, sono presidente dei Lions, che ho fondato 27 anni fa, e abbiamo declinato sulle parole. Abbiamo svolto, insieme anche col preside Caleggiuro, un convegno su Tullio De Mauro, grande linguista, ripartire dalle parole, morto a gennaio. Poi oggi c'è questa manifestazione e il 27 di aprile, sempre in questa scuola, ci sarà una giornata della lettura ad alta voce, che sarà dedicata alla poesia. E quindi è un'altra attività che si svolgerà. Allora, ripartire dalle parole per ricostruire la realtà. Guardate, la nostra visione del mondo dipende dalle parole che noi conosciamo. Cioè, non solo. Sentivo ieri sera, veramente stanotte, una trasmissione. Le parole sono quello che resta quando finisce tutto. Quando noi perdiamo un caro. Resta nelle parole che noi diciamo. Resta nella memoria. Quando un episodio storico passa, Napoleone, passa Carlo Magno, passano Matteotti. Cioè, restano le parole. Rivivono nelle parole. Quindi guardate come le parole sono fondamentali, perché ci aiutano a costruire la realtà. E la lettura è importante, come la scrittura. E la parola viene sempre prima. Ricordatelo. Avrete letto la parabola dell'ultima cena. Vi ricordate com'è organizzata? E Gesù, dopo l'ultima cena, va nell'orto del Gezzemani a pregare. E là incontra i pretoriani romani che lo devono arrestare. Ma i pretoriani romani non lo conoscono. Quindi Giuda, per identificarlo, lo deve baciare. Perché? Perché prima era arrivata la parola Gesù Nazareno, re dei giudei. E dopo era arrivata l'immagine Cristo in persona. Quindi la parola viene prima. E noi siamo nati per parlare. Geneticamente per parlare. Non per scrivere o per leggere. Siamo nati per parlare. Non a caso la Bibbia, il libro dei libri, come inizia. Qual è la frase con la quale il libro dei libri prende l'avvia? Bravo. La parola. All'inizio del verbo. È la parola. Allora, le parole sono importanti perché ci danno idee, ci danno una visione del mondo e danno un valore alla lingua. Il Preside prima parlava dei temi, dei riassunti. Allora, i temi sono, in qualunque modo poi si vogliano identificare, scrittura creativa, scrittura funzionale. Sono importanti perché fanno prendere forma al pensiero. Quindi sviluppano la logica, la razionalità, la creatività. Così come sono importanti i riassunti. Perché con i riassunti noi ci appropriamo di quello che dicono gli altri. Capiamo quello che ascoltiamo. se voi sentite un professore che spiega una lezione e riassumete nelle linee essenziali quello che dice avete capito e avete interiorizzato. Quindi riassumere è un fatto fondamentale. Così come scrivere. E allora, questa esperienza della scrittura e della lettura sono molto importanti. Come sapete ho fatto l'assessore regionale in Calabria e ho puntato come prima cosa sulla cultura e quindi sulla lettura. Che è l'elemento essenziale per capire le cose. Se uno non legge, non capisce le parole, può apprezzare un quadro di Mattia Preti? Può capire una sinfonia di Cilea? Può apprezzare un libro di Mimbo Cangemi? Non lo può fare se non conosce le parole. E allora abbiamo fatto in modo di partire sul libro verde sulla lettura e che in cui inserire dei cammei, degli scrittori calabresi più importanti. Mimbo Cangemi, Carmine Abbate, la giovanissima Angela Bubba. Siamo stati la prima regione ospite d'onore al Salone del Libro di Torino nel 2013 che è stata inaugurata da una mostra di sommattia preti che quell'anno celebrava i 400 anni della sua nascita. Abbiamo creato il polo regionale pubblico sulla lettura a Vipo Valencia. Abbiamo finanziato uno dei sette grandi eventi della regione Calabria concentrando le risorse prima distribuite a polvere proprio su eventi significativi. Uno di questo era proprio sulla lettura, sul Tropea Festival. Abbiamo censito le biblioteche scolastiche che sono un patrimonio straordinario che nessuno conosce, con libri 400, 500, 600, libri favolosi nelle scuole. Abbiamo fatto diventare gli autori calabresi, gli scrittori contemporanei calabresi, la materia di studio nelle scuole. Mimmo Cangemi, Carmine Abbate, il giudice Cratteri. Abbiamo inaugurato la Casa Museo a Saverio Strati, nel suo comune di nascita. Abbiamo promosso probabilmente il primo volume, il primo romanzo di mafia, che non è il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, ma probabilmente è il libro di Saverio Montalto, la famiglia Montalbano. E poi una cosa interessante, avevamo promosso il libro per ogni nato. Ogni nato nel 2013 ha ricevuto un libro realizzato appositamente per lui. Quindi poi con Mogolle organizziamo, caro Mimmo, la giornata della scrittura il 29 settembre, che è il giorno di una canzone scritta da Mogolle, il 29 settembre, la sapete? E poi nelle giornate ad altavoce, del lettore ad altavoce, che voi avete fatto, mi ricordo la Rubettino, e quindi siete state molto bravi. Alla fondazione pure, sì. E allora vi ricordate una cosa molto bella? La Calabria per due anni consecutivi, la prima in Italia in termini assoluti come partecipazione delle scuole. Noi in genere siamo abituati a essere gli ultimi. Il risultato di queste attività qual è stato? Che non siamo più l'ultima regione d'Italia come lettura di libri e di giornali. Siamo la terza regione d'Italia come lettura di libri digitali. Abbiamo recuperato il 10% di competenze per l'invalsi tra il 2009 e il 2013 per i giovani 15 anni. Allora, adesso Maria Orsola, professoressa Chiodo, ci ha fatto vedere a Mimmo e a me quello che state facendo per il maggio dei libri. Complimenti, belle cose. E quindi adesso c'è Mimmo Gangemi. Molto rapidamente, Mimmo Gangemi è uno scrittore di vaglia che dimostra la strattezza della divisione dei saperi. Come vi diceva la professoressa Chiodo, lui è un ingegnere che ha fatto, ha lavorato, ha diretto l'ufficio tecnico dell'ASL, dell'azienda sanitaria di Palmi. Quindi una cosa molto distante dalla letteratura e dall'arte. E quasi 25 anni fa ha scritto il primo libro. Sapete dove l'ha pubblicato? Indovinate? Dove l'è? Virgì? Era Rubettino. Bravo. Era lo stesso. Allora, nel 95, caro professore, un anno in Aspromonte, che vinse il premio Regium Iuli. Nel 94 aveva scritto Quell'acro odore dell'aglio, che è un libro molto bello, molto interessante, che parla dell'alluvione del 1951. Nel 2001 pubblica Le pietre del Levante. Nel 2002 Il passo del cardaio. Nel 2004 racconta una vicenda vera, 25 nero, ambientato a Palmi, in una vicenda di sangue che vide coinvolto anche Leonida Repaci. Nel 2009, questo libro famoso, Il giudice meschino, pubblicato da Inaudi, che è una delle case editrici più importanti del nostro paese, tradotto anche in francese, con il titolo La revanche du petit juge, la rivincita del piccolo giudice. Nel 2014 questo libro diventa uno sceneggiato su Rai 1 in prima serata, interpretato da Luca Zingaretti, girato a Reggio Calabria e premio selezione bancarella. Nel 2011 la signora di Ailesi Island, sempre con Inaudi, premio tropea dell'anno dopo. Nel 2013 il patto del giudice con Garzanti, pubblicato anche questo in francese. Nel 2014 il prezzo della carne, con Rubettino, che è la riedizione di un anno in Aspromonte riscritta. Nel 2015 la riscrittura di Un acro odore dell'aglio, pubblicata sempre da Bonpiani, è la riedizione del libro del 1994. E nel 2015 la verità del giudice meschino, Garzanti, ripubblicato in Francia. Quindi è uno scrittore che vive in Calabria e che pubblica con le più importanti case editrici d'Italia. Tra l'altro, lui è l'unico che vive in Calabria, che è editorialista di un grande quotidiano nazionale. Lui scrive sulla stampa. I suoi commenti sono sul giornale più a nord, sulla grande testata più a nord del nostro Paese. E guardate che scrivere su queste testate significa che c'è della qualità, che c'è del valore. Mimmo Gangemi è stato, come vi ho detto, compagno di viaggio in tante occasioni. Sulle politiche della lettura, al salone del libro del 2010, nel libro verde sulla lettura, curato da Tullio De Mauro, al salone del libro del 2013, i suoi libri in materia di studio nelle scuole della Calabria, nel 2014 nella commissione sul racconto ispirata da Mogolo. E poi, ultimamente è stato a Trebisacci, al liceo scientifico di Trebisacci, in occasione di un premio che hanno voluto assegnare alla biblioteca dedicata a mio padre, dove i ragazzi sono stati, siete stati a svolgere attività di alternanza scuola-lavoro, insieme a Lecce era proprio lui. E allora abbiamo a che fare con un grande intellettuale, con un grande scrittore, che questa mattina ci darà delle cose importanti. Ascoltiamolo e salutiamolo con un applauso. Naturalmente il professore Caligiuri esagera, anche per amicizia. Va bene. Io ho fatto l'ingegnere e continuo a farlo. Sembrano due mondi distanti, anche io lo pensavo, poi in realtà ho scoperto strada facendo che tanto distanti non erano. Ho cominciato a scrivere nel 92, molto di nascosto, proprio per quella strana forma di pudore che mi era insolta dall'idea che i numeri dell'ingegneria non potessero legare con le parole, con la scrittura. Un anno da Spromonte che poi pubblicai nel 95 con Rubettino e poi ripubblicai riscritto qualche anno fa. Fu da me scritto di nascosto, quando un collega, perché facevo anche la libera professione molto, perché quando un collega entrava nell'ufficio, io dissimulavo e mi mostravo intento alla redazione del progetto, proprio perché avevo questa idea assurda che le due attività non potessero colimare, al punto che anche la mia famiglia scoprì che io avevo scritto questo libro solo a operazione conclusa, erano abbastanza increduli e devo dire che non avevo neanche una grande credibilità. Mentre scrivevo, io mi accorgevo che era il mio sfogo, mi accorgevo di aver iniziato questa avventura così lontana dal mio mondo di lavoro, perché era uno sfogo del mio animo, era un periodo in cui esageravo troppo con il mestiere di ingegnere, per cui mi sorgeva... vivevo stabilmente con un'ansia per le troppe cose da fare. Io ho cominciato a scrivere per disintossicarmi dal troppo lavoro da ingegnere e via via la scrittura ha sempre preso più spazio nella mia giornata, finché a distanza di più di 20 anni, di quasi ora di 25 anni da che scrivo, oggi io mi ritrovo a fare il mestiere da ingegnere, fare un progetto per disintossicarmi da troppo scrivere, sono invertite le parti. Io continuo a vivere in questa terra, sono nato in un paesino dell'aspromonte, mi sono trasferito di pochi chilometri sul mare, a Palmi, e scrivo storie che evidentemente ho accumulato dentro il mio animo e che spingevano ad uscire, ad essere raccontate. Le storie è sempre bene che non vadano perdute, bisogna che le si estracca. E ora una caratteristica del mio scrivere, che poi è più una necessità interiore mia, è quella di spaziare su più genere letterario. Ho cominciato con un anno d'aspromonte, che è qualcosa in mezzo tra un noir, lo spaccato di vita sociale in un paese, e poi ho continuato con una saga familiare e ho riappiacciato ancora il noir, il romanzo storico. Ultimamente mi sto cimentando, forse in modo presuntuoso, con il realismo magico, perché io sono sempre stato innamorato di Gabriel Garzia Marquez e Cent'anni di solitudine ha lasciato una traccia pesante dentro di me, che ho inteso ascoltare. Quando dentro mi è assolto l'idea di scrivere queste storie di un mondo fantastico, di assoluta fantasia e magia, forse in modo presuntuoso, ho assecondato per l'istinto, ho scritto due storie ancora inedite che parlano proprio di questo, che proprio cercano di realizzare quel realismo magico che tanto ha intuito nella mia formazione. Io vi voglio, faccio un inciso. Io vi parlo brevemente di me perché spero che della mia esperienza anomala di scrittore diventato tale a un'età già avanzata possa scaturire in voi qualche impulso, qualche istinto da secondare. Credo che la mia sia una storia interessante da questo punto di vista, perché cominciare a 42 anni a scrivere dopo aver trattato solo con i numeri è un fatto che dà l'idea che ognuno di noi ha qualche cosa dentro che pretende di uscire. A me è successo nel campo della narrativa, io ho assecondato l'istinto fino al punto da ritrovarmi lo scrittore che non avrei mai pensato di poter diventare. Credo che in ognuno di noi ci siano dei talenti più o meno elevati che pretendono di essere secondati, di uscire all'aria. Nel mio caso sono state le storie, sono state tutte quelle esperienze, quei racconti ascoltati attorno alla ruota del placere quando ero bambino, o nei frantoi, nelle pause dei lavoranti che mi raccontavano quelli più grandi, che si erano immagazzinati dentro di me e pretendevano di uscire all'aria, conservate gelosamente. Questo mi ha fatto diventare un narratore, io faccio una distinzione tra narratore e scrittore, sebbene il confine sia molto labile. Quando il compianto professore Crubi, per il quale avevo un'ammirazione immensa, mi chiese con la sua voce un po' gracchiante, ma lei, non ci davamo del lei o del voi, si sente narratore o scrittore, io mi senti sotto esame perché avevo una grande stima del professore Crubi. E allora io lavorai a lacrimente di mente per riuscire a capire, per prima io il distingo fra le due cose, e risposi narratore, e lui mi chiese perché lei si sente un narratore e non uno scrittore, perché la mia impressione è che lo scrittore sia più costruito, nasca dall'esperienza di lettura, dallo studio dei classici, il narratore attinge dal mondo esterno, dal mondo che vive, da tutto quello che ha immagazzinato negli anni più importanti, che sono quelli del ragazzo, dell'adolescenza, da quelle esperienze attorno alla ruota del braciero, o nel frantoio dei miei zii, quando i più anziani ci raccontavano storie, favole, bagie, accadimenti antichi, e io senza accorgermi incameravo, e man mano che scrivevo mi accorgevo di avere perfettamente conservato quei racconti che credevo fossero andati perduti, dispersi nel tempo, erano passati decenni, invece erano gelosamente custoditi in un angolo profondo del mio animo, e a un certo punto si sono mossi dentro quell'anima, hanno preteso di diventare inchiostro sulla carta, di essere raccontati, io sono assecondato l'istinto. Con una caratteristica di cui per la verità vado orgoglioso, io non discuto sul valore o meno dei miei libri, non sta a me dirlo, sta ai lettori, sta ai critici, valutare se abbiano il peso della loro valenza letteraria. Però io sono orgoglioso del mio avere scritto senza l'assillo del successo, e di essere arrivato alla grande casa editrice, quale è Inaudi, dopo 15 anni di assoluta gavetta. E questo consiglio mi sento di dare a voi, ma non solo nel mondo che io ho affrontato, quello del romanzo, della narrativa, ma in tutte le strade verso cui vi guiderà l'istinto, l'animo. Non abbiate mai l'ossessione del riuscire a tutti i costi. Tante cose, come lo scrivere nel mio caso, succedono e avvengono perché c'è un desiderio interiore che spinge a farle, a scrivere, a raccontare storie che ritenevo non fosse giusto dovesse andare perdute. Però per mia fortuna non ho mai avuto l'assillo dell'arrivare al successo a tutti i costi. Certo, sarei ipocrita se dicessi che poi quel po' di successo che è arrivato non mi ha inorgoglito e non mi ha fatto piacere. Però per fortuna ho saputo resistere alle lusinghe e non essere essessionato dall'idea di scrivere un libro che avesse una risonanza da rendermi un personaggio di spicco nel mondo letterario. Credo che se avessi sviluppato questa idea nella mia mente forse non sarei riuscito a scrivere le opere che ho scritto io su tutte prediligo fra tutte le mie opere la signora dell'Island e ho la presunzione di dire che è un'opera che probabilmente mi sopravviverà. Per cui voglio lasciarvi questo invito a sviluppare i vostri talenti, ad essere rassegnate al dover fare gavetta come l'ho fatta io per 15 anni e a non essere assessionate dall'idea del successo a tutti i costi perché questa idea riesce a tarare il talento riesce a ostacolarlo, quantomeno il talento. Detto questo, so che molti di voi hanno affrontato dei corsi o roba simile di scrittura creativa noi abbiamo poco tempo stamattina però parlando con la professoressa abbiamo sviluppato una vaga idea non di un corso di scrittura creativa io l'ho fatto il mese scorso al comune di Nicotera all'Igeo Classico di Nicotera ma abbiamo dedicato 5 intere mattinate dalle 8 all'1 qui c'è stato il tempo di sviluppare una storia però se vi pare possiamo fare un tentativo di scrittura creativa io ho preparato, ho preparato, ho tirato fuori due incipit di due storie diverse una che riguarda un naufraggio noi assistiamo in questo periodo a tanti naufraggi nel canale di Sicilia con tanti morti, con tanti sventurati che percorrono con centraria di distanza rispetto ai nostri antenati la stessa strada di miseria e di disperazione che percorsero i nostri affrontando il mare Oceano verso le Americhe è uno più vago, un mezzo noir, un giallo uno più a tinte che fa pensare al delitto sono degli incipiti, sono delle basi di partenza mi piacerebbe che voi li guardaste se riusciamo a farli passare sullo schermo gigante forse è meglio e che in un'ora provaste a proseguire questa storia una delle due storie che sono due storie diverse e che ne ho preparate due perché per andare incontro agli animi diversi che ognuno di voi avrà c'è chi si sentirà più attratto dal primo inizio di storia chi dal secondo per cui lascio a voi la libertà di scelta ma vorrei che tentassimo io ho scritto venti righe a me basta che anche voi o a gruppi o assieme decidetelo da soli scriviate venti righe in continuazione di una delle due storie di quella che vi ispira di più la fantasia di quella che più vi colpisce di quella che vi pare più degna di essere proseguita io non so se riusciamo a metterle tutte e due se qualcuno mi aiuta assieme assieme sullo schermo così avete l'occasione di guardarle e qui poi vi darei un'ora di tempo se siete d'accordo e alla fine ne parliamo ne discutiamo assieme qualcuno leggerà il suo pezzo qualcuno chiederà delle cose vediamo lasciamo che le cose vadano avanti così senza programmarle nel dettaglio spero che ci stiate a provare a continuare questi due incipiti che vi ho dato anche unendovi a gruppo non è a gruppi di tre quattro non è obbligatorio che ognuno chi si vuole cimentare da solo lo faccia pure ognuno che sceglierà una delle due storie lo prego di analizzare per i primi cinque minuti quell'incipit che io sto dando perché quando si racconta una storia per esempio bisogna anche calcolare la velocità i tempi della storia leggendo i due incipit noterete che Orme è una storia è una storia breve nel senso che si svolge in pochi in pochi minuti il percorso di un uomo su una spiaggia di un uomo insanguinato su una spiaggia il naufragio il secondo incipit è una storia un po' più lunga nel senso che c'è una barca una carretta del mare che che a largo delle coste italiane affonda gente che muore tre uomini che si salvano e si avvicinano alla riva per cui a tempo più lungo la continuazione di ognuna di queste due storie è chiaro che dovrà continuare quei ritmi temporali che l'incipit ha fornito se vogliamo provare se siete d'accordo possiamo provare se siete d'accordo grazie